Se non avessi creato questa situazione! Guarda che in parte è anche colpa tua, eh! Mia? Che cosa ho fatto? Ricordo di averti sentito pregare perché piovesse due giorni fa, Duffy! Cosa? Non fare il finto tonto con me! Ti ho sentito lamentarti su quanto l'aria secca stesse peggiorando il tuo eczema! Eh! Per prima cosa, il mio non è un eczema! È psoriasi! Una malattia della pelle molto meno grave! Seconda cosa, le preghiere di un'anatra sono fatti suoi e tu non dovresti oriviare! Piantatela! Piantatela! Buoni! Non potete mettervi a litigare! Duffy è tutto per te e questo tu lo sai! E Bugs è tutto per te e anche tu lo sai! E io invece sono tutto per entrambi e lo sappiamo tutti e tre! È così chiaro ormai? In questa casa c'è bisogno di me per farci stare uniti! Siamo come una famiglia ora! Come fratelli! O padri! No, fratelli! Abbracciamoci! Io non me ne andrò mai! 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 Non me ne andrò mai! Mai! La tua idea non ha funzionato! Operazione rimozione coinquilino sta per entrare nella fase 2! Parlate pieno! Oh, giusto! Non vogliamo disturbare mister sonno leggero? Oppure lo vogliamo! Ciao! Vi divertite? Guardate quanti sottobicchieri! Musica a tutto volume! Più forte è meglio è! Così il nostro ospite fastidioso scapperà entro 5, 4, 3, 2! Si può sapere che diavolo sta succedendo qui? Uno! Se in questa casa si continuerà a fare tutto questo fracasso, farò le mie valigie e me ne andrò in me che non si... Ma quello è il karaoke! Corcrobare è eccociui! I'll be with you Whatever you want I'll give it to you